Bene, continuiamo le nostre lezioni con un esempio e quindi cominciamo a parlare, o meglio parliamo di rifare sostanzialmente quello che abbiamo fatto finora come esempio quindi quello degli esami con la lista degli esami sostenuti e la possibilità di aggiungere esami eccetera, vogliamo rifare questa applicazione in reatto, ovviamente non riusciremo a fare tutto oggi chiaramente perché stiamo procedendo passo per passo e quindi cominciamo dalla prima parte che è quella di pensare a come organizzare la nostra applicazione. Questo è un possibile esempio, quindi un mock up di come potrebbe apparire la nostra applicazione, quindi in realtà questo non è uno screenshot preso da un'applicazione che esiste già ma è qualcosa che potremmo aver messo insieme pensando a come dovrebbe funzionare la nostra applicazione e quindi pensando di avere una parte superiore nella quale oltre al titolo possiamo avere l'informazione relativa agli esami sostenuti come avevamo appunto nell'esempio precedente e poi un meccanismo per poter andare a editare, per esempio inizialmente anche solo ad aggiungere dei nuovi esami una volta sostenuti con il loro voto, la loro data eccetera. Per prima cosa dobbiamo porci nella condizione di pensare qual è l'aspetto della nostra applicazione e cercare di capire come organizzarne il layout prima di tutto per capire dove stanno i blocchi e quindi come questi blocchi potrebbero interagire tra loro e una volta che abbiamo fatto questo dobbiamo cominciare a cercare di dividere le varie parti dell'applicazione in componenti così come ci impone il framework React e una volta che facciamo questo passaggio di andare verso i componenti ovviamente dobbiamo cominciare a pensare a quali sono gli input e gli output di questi componenti gli output ovviamente sono la vista che viene renderizzata dei vari componenti e gli input sono sostanzialmente le proprietà e poi eventualmente se sarà necessario penseremo anche allo stato ma in questa semplice applicazione vedremo che questo aspetto è più limitato almeno per il momento e lo svilupperemo mano a mano che andiamo avanti andiamo quindi a cercare di pensare come decomporre questa schermata che è di fatto l'aspetto della nostra applicazione in questo momento quello che desidereremo in componenti potremmo cominciare a pensare ad un primo step in cui sostanzialmente abbiamo tre componenti principali il titolo che può sembrare banale come componente ma cerchiamo sempre di pensare anche un po' in prospettiva futura nel senso che in questa parte potremmo anche avere poi successivamente delle nuove funzionalità e così via per esempio funzionalità di navigazione piuttosto che login piuttosto che cose di questo tipo quindi cominciare ad organizzare l'applicazione anche solo per il titolo con un semplice componente potrebbe essere una buona idea ovviamente bisogna sempre cercare di non esagerare da un lato nel senso che non si può sempre fare più lavoro di quanto in effetti forse è necessario però anche cercare di pensare le cose in maniera che siano ragionevolmente estendibili nel futuro in maniera non troppo complicata può essere una buona strada da seguire successivamente abbiamo la parte che visualizza i nostri esami e quindi sicuramente questa tabella dovrà essere gestita da un componente che riceverà delle informazioni le quali dovranno essere poi visualizzate quindi diciamo le varie informazioni relative ai corsi, i voti eccetera che saranno visualizzate in più bisognerà poi gestire il fatto che in qualche maniera vogliamo poter editare questa tabella editarla inserendo una nuova riga ma anche editare poi le singole righe questo però possiamo demandarlo a quello che diremo tra un istante diciamo che c'è un componente che si incarica di gestire questa parte che è la gestione dei nostri esami in particolare in questo momento della visualizzazione poi vediamo come gestire questa parte e poi abbiamo questa parte sotto che sostanzialmente è un form, un form opzionale che quindi comparirà solamente nel momento in cui lo agganceremo al click su questo bottone e che diciamo andrà a quindi comparire solamente quando necessario per questo diciamo lo chiamiamo optional per ora non che chiamandolo optional tutto funzioni automaticamente però è giusto per ricordarci che in questa parte vogliamo avere qualcosa di opzionale e che sarà nel momento in cui vogliamo visualizzarlo il nostro form di editing del corso quindi questo è un primo step che possiamo fare, un primo passaggio di cominciare a suddividere la nostra applicazione in alcune parti principali a questo punto cerchiamo di scendere un pochino più nel dettaglio e quindi andare a pensare se effettivamente questi componenti che svolgono tutta una serie di compiti possono essere ulteriormente suddivisi in altre sottocomponenti quindi pensando appunto al componente della tabella potremmo avere sostanzialmente un componente che effettivamente si occupa della questione della tabella e un componente che si occupa invece di controllare che cosa si può fare con la tabella quindi per esempio aggiungere dei dati piuttosto che magari avere altri tipi di controlli per esempio fare una visualizzazione adatta alla stampa nella quale per esempio non vogliamo più mostrare alcune informazioni per esempio queste iconine di editing e così via quindi questo è un componente che per il momento contiene un semplice elemento diciamo che in futuro sarà cliccabile e risponderà al clic però di nuovo potrebbe essere estendibile verso un qualche cosa che può consentirci di aggiungere delle funzionalità proseguendo ancora in quello che potremmo fare sempre ragionando sulla tabella potremmo pensare che all'interno della tabella abbiamo dei singoli elementi che corrispondono a dei dati particolari in particolare ai nostri esami e quindi che potrebbero essere gestiti da un componente apposito che è la riga di esame quindi sostanzialmente una riga della nostra tabella e che quindi si incoricherà di visualizzare informazioni relative ad un singolo esame ed in più anche ai relativi controlli per esempio per farne l'editing quindi potremmo pensare a un componente exam row che è il componente contenitore di due ulteriori componenti i dati semplici visualizzati quindi questa parte sinistra che visualizza semplicemente i dati più la parte destra che può controllare quanto c'è a sinistra in particolare propone l'editing piuttosto che la cancellazione in questo caso ma di nuovo abbiamo un componente che ragiona in termini di azioni che si possono fare sui dati e che potrebbe essere facilmente estendibile se poi andiamo a pensare al componente sotto quindi l'optional edit form di nuovo possiamo cercare di fare dei ragionamenti simili quindi per quanto riguarda l'optional edit form prima di tutto potremmo pensare di utilizzare l'optional edit form come qualcosa che decide se mostrare i componenti al suo interno oppure no e quindi avere un componente al suo interno edit form che poi effettivamente realizzerà il form piuttosto che invece un null che quindi come sapete dalla teoria che abbiamo visto sostanzialmente non visualizzerà nulla e quindi demandare la logica di gestione della visualizzazione di tutto quello che è contenuto all'optional edit form questo componente il quale nel caso in cui decidiamo di visualizzare l'informazione sostanzialmente ci creerà l'edit form altrimenti niente di nuovo cerchiamo di approfondire cosa possiamo fare con l'edit form l'edit form potrebbe contenere per esempio due componenti che sono i dati relativi all'esame sotto forma di form quindi i tre controlli all'interno dei quali possiamo inserire le nostre informazioni quindi selezionando l'esame il voto e la data e poi i controlli del form nel senso di appunto di gestione del form stesso salva, cancella eccetera un po' analogamente a quello che abbiamo fatto qui sopra per i controlli della riga relativa al singolo esame quindi questa è una possibile organizzazione che possiamo sviluppare per la nostra applicazione e che però diciamo è una possibile proposta diciamo ragionevole sulla base di quello che pensiamo che debba essere fatto ora e che potrà essere fatto poi nel futuro sviluppo dell'applicazione diciamo lasciandoci una porta aperta anche appunto al poter aggiungere eventuali ulteriori azioni piuttosto che comportamenti vari eccetera riassumendo quanto abbiamo visto finora abbiamo sostanzialmente questa gerarchia di componenti quest'albero di componenti partiamo dalla nostra app che è quella che è sostanzialmente presente in tutte le applicazioni react quella che ci viene generata dal creator react app che è lo script che utilizziamo per inizializzare un'applicazione react e che è sostanzialmente fatta al primo livello di tre componenti il titolo come avevamo visto la tabella degli esami che in realtà diciamo la tabella stessa sarà a un livello inferiore ma diciamo la parte dove vengono visualizzati gli esami dicendo meglio e poi la parte opzionale di visualizzazione del form andando a espandere la parte diciamo di visualizzazione degli esami troveremo la tabella e i controlli relativi alla tabella quindi quel più che ci consente di aggiungere degli esami e la tabella a sua volta sarà costituita da una serie di exam rows quindi uno o più di questi ognuno di quali sarà costituito da un exam row data quindi la parte che visualizza l'informazione dell'esame piuttosto che poi anche dalla parte che ha i controlli per l'esame in quella riga quindi questo è il ramo della parte della visualizzazione degli esami il ramo del form ha questo contenitore in cui dicevamo per prima cosa dobbiamo decidere se visualizzare tutto il resto oppure no nel momento in cui visualizziamo tutto il resto sostanzialmente o meglio creiamo perché poi della visualizzazione se ne occupa React se creiamo gli altri componenti e gli altri componenti saranno il form che a sua volta è costituito da due parti come avevamo detto la parte dove si inseriscono i dati nel form e i controlli del form stesso andiamo ora a vedere sul codice che ovviamente trovate già disponibile sul repository in github diciamo come possiamo implementare in pratica questa idea che abbiamo proposto prima di tutto sottolineo che questa è una idea nel senso è una possibile idea di una soluzione chiaramente è una cosa che ci pare ragionevole e che però potrebbe non essere l'unica soluzione come sempre come in tutti gli esercizi di programmazione quello che proponiamo è una possibile soluzione ma ovviamente siamo aperti magari anche nella sessione domande e risposte di giovedì a suggerimenti piuttosto che a richieste di chiarimenti o di valutazioni di possibilità alternative cercando di capirne bene i vantaggi e i disvantaggi bene, andiamo a vedere la soluzione che vi proponiamo qui troviamo due directory come sempre la directory public in cui serviamo il contenuto statico in questo caso c'è solo il file html in cui abbiamo semplicemente inserito la parte di bootstrap quindi c'è il caricamento del CSS di bootstrap più tutte le sue necessarie diciamo dipendenze quindi javascript e così via e all'interno abbiamo semplicemente impostato il titolo e poi titolo che questo è quello che compare sulla barra del titolo del browser e poi semplicemente abbiamo lasciato tutto inalterato in generale qui non tocchiamo niente e sostanzialmente andiamo a lasciare il container che è quello necessario a bootstrap e l'id che è quello che id root che è quello a cui si aggancia poi la applicazione react in app.js infatti abbiamo sostanzialmente scusate in realtà questa è già a classe app in index.js abbiamo sostanzialmente il componente app il componente app quindi questo è già generato da react e non facciamo assolutamente niente viene agganciato in quel punto che abbiamo visto prima perché viene inserito nella posizione dell'albero che è il document getElementById root ok quindi il componente app significa che dobbiamo avere appunto un componente react che si chiama app che ci viene in generale già creato da react nella sua forma di base che ovviamente dobbiamo andare a personalizzare quindi qui appunto in app.js abbiamo semplicemente fatto in modo di ritornare il diciamo un div che contiene tre componenti come vedete uptitle li abbiamo chiamati nella stessa maniera come abbiamo fatto vedere prima exam course e optional exam form uptitle è un componente estremamente semplice quindi non riceve alcuna property mentre invece la parte di exam course e optional exam form ricevono una serie di properties ovviamente come vedete stiamo usando la sintassi JSX e siccome ritorniamo tre componenti e ci sembra anche logico metterli insieme li abbiamo messi in React è obbligatorio metterli insieme in un unico componente perché possiamo ritornare solamente un componente che è la radice dell'albero nel metodo render e però qui ritorniamo appunto un div che abbiamo stabilito per comunque essere ragionevole per la nostra applicazione anzi abbiamo anche inserito un nome che tramite il class e quindi sostanzialmente abbiamo dato un punto di aggancio eventuale a uno stile se necessario dando l'attributo class ricordate che qui deve essere scritto come class name e non può essere semplicemente class perché questo viene tradotto in codice javascript class come foro è una parola chiave riservata ecco prima di proseguire andiamo anche a vedere che in questo file sono presenti dei dati fittizi quindi abbiamo due variabili const creati in javascript che diciamo in una versione più avanzata dell'applicazione andranno a essere recuperati dal database come abbiamo fatto nell'applicazione precedente scritta tutta in javascript qui per iniziare a lavorare diciamo creiamo questi dati finti quindi finti termini di lista degli esami sostenuti e finti termini dei corsi disponibili all'interno del database quindi che possiamo selezionare per inserire in questa tabellina e sostanzialmente per ora lavoreremo con questi dati diciamo così finti per lo meno questi sono i dati nella loro forma iniziale e chiaramente nel momento in cui inseriremo della logica all'interno di questa applicazione questi dati potranno essere modificati modificati prima di tutto all'interno appunto dell'ambiente javascript nel senso che dovremo mantenere dell'informazione che varia all'interno del javascript stesso e poi quando inseriremo anche l'aggancio con la parte server quindi con le api rest che abbiamo sviluppato e così via potremmo anche andare a gestire il caricamento e il salvataggio delle informazioni su database questi dati che sono di fatto due semplici array di oggetti vengono passati come proprietà ai componenti quando necessario adesso andiamo a discutere meglio delle proprietà perché è appunto un aspetto importante che vogliamo imparare a gestire al meglio in React e in questa lezione prima di adentrarci nel vedere funzionamento di exam scores e poi anche di option exam form andiamo a dare un'occhiata a uptitle per il semplice componente uptitle abbiamo pensato di inserire tutto in un file esterno e quindi di importarlo giusto per dare un esempio di come si può fare a separare il codice in differenti file quando necessario però questa è un'attività che non è strettamente necessaria perché è possibile anche non separare il codice però chiaramente quando il codice cresce tanto ovviamente sentiremo naturalmente la necessità di fare questa operazione quindi abbiamo prima di tutto voluto far vedere un esempio di come è possibile farlo questo componente è estremamente semplice come vedete non ha non ha stato ovviamente non ha necessità di neanche di ricevere delle proprietà quindi sostanzialmente non abbiamo messo neanche il parametro e abbiamo definito sotto forma di funzione e ritorna semplicemente un H1 quindi con la sintassi JSX ovviamente questo è tutto JSX come tra l'altro vedete che ci suggerisce anche l'ambiente il Visual Studio Code ovviamente esportiamo il componente come siamo abituati a fare per renderlo visibile in app quindi quando facciamo l'import quindi import uptitle from uptitle e uptitle ok è questo che abbiamo esportato come default e notate bene che abbiamo bisogno di importare React notate che qui non c'è scritto React esplicitamente da nessuna parte ma il JSX ricordate JSX è sostanzialmente React Create Element quindi ha bisogno come dicevamo a lezione di importare React altrimenti questo pezzettino di codice semplice non funzionerà ok abbiamo dunque visto come diciamo scrivere un componente in un file separato e importarlo in un altro adesso andiamo a dare un'occhiata a altri componenti più complicati per esempio cominciamo da exam scores passo quindi nel file che contiene exam scores che dovrebbe essere exam components in realtà dovrebbe si contiene contiene anche il form vabbè però comunque diciamo exam scores andiamoci a cercare quindi abbiamo exam exam scores ok sostanzialmente ci darà un exam table e i table controls come dicevamo prima come dicevamo prima ricordate dalla visualizzazione sul mock up di prima che avevamo deciso di dividere questa parte visualizzazione degli esami in due componenti exam table e table controls avremmo potuto racchiudere in un div diciamo qui un po' per fare esercizi un po' per diciamo anche sostanzialmente far vedere come diciamo non sappiamo se devono essere contenuti necessariamente in un div magari devono essere organizzati diversamente e così via abbiamo fatto che usare quel react fragment che nella sua sintesi abbreviata è quel minore maggiore che abbiamo visto sulle slide quindi questo è ovviamente di nuovo tutto jsx e che sostanzialmente viene viene tradotto poi in quel react fragment perché ricordate non possiamo fare il return di due elementi due componenti uno di fianco all'altro se uno dentro l'altro va tutto bene perché c'è un'unica radice ma deve esserci sempre l'unica radice quindi un modo per risolvere il problema è avere il frammento quindi per tenere insieme questi due elementi che poi questo frammento non comparirà nel nel dom nel momento in cui react lo lo tradurrà lo porterà nel dom diamo quindi un'occhiata per prima cosa all'exam table quindi exam table che riceverà delle proprietà poi torniamo sulle proprietà l'exam table l'exam table sostanzialmente creiamo la tabella infatti facciamo return table qui non c'è bisogno del frammento perché in realtà table è un'unica radice apriamo table qua e chiudiamo qui in fondo ed è ciò che ritorna il render table con tutti i vari class e così via tutto ciò che è necessario per renderizzare correttamente la tabella in termini di css eccetera quindi usando gli stili che se diciamo che vogliamo utilizzare per esempio di bootstrap e così via ovviamente avremo poi un header che è la parte iniziale della tabella che sarà come l'abbiamo scritto qui sempre presente e poi avremo un body nel quale andremo a creare dinamicamente le varie righe e le varie righe saranno le componenti exam row come abbiamo deciso di gestirli prima durante la spiegazione diciamo di come abbiamo pensato di organizzare l'applicazione l'exam row quindi sostanzialmente non farà altro che ritornarci il contenuto della row sotto forma di elemento che possiamo includere nel body quindi il tr se avessimo fatto dunque qui c'è l'exam row che si chiude e poi ci sono i row control se non ci fosse stato il tr avremmo avuto bisogno del fragment ma siccome tanto dobbiamo farlo sotto forma di row e ha anche senso avere il tr che è il table row come tag che racchiude tutto così va bene perché abbiamo un'unica radice di nuovo e all'interno della row ci saranno i row data e i row controls i row data prendono come proprietà l'exam quindi i dati che vogliamo visualizzare quindi exam row data qui sotto e abbiamo come properties sono quelle che vengono passate qui e quindi avremo la possibilità di accedere a props exam che è sostanzialmente questa che tra l'altro riprendiamo direttamente dalle proprietà che ci vengono passate da sopra che vengono create qui e adesso andiamo a vedere nel dettaglio come viene creato e questo elemento exam avrà sostanzialmente tre proprietà una name una score e una date che poi aggiustiamo per seconda di come vogliamo realizzare la visualizzazione e di nuovo qui abbiamo i tre td che non hanno un'unica radice quindi di nuovo abbiamo usato il fragment di react per metterli insieme anche perché non potevamo usare un div ecco questo è proprio un caso classico in cui non si può usare un div perché nel momento in cui siamo dentro il table row sostanzialmente non possiamo più usare il div e quindi se dobbiamo ritornare tre elementi ovviamente dobbiamo usare per forza questo fragment e poi avremo i row controls che sostanzialmente ci visualizzeranno per ora solo visualizzeranno due due immagini sostanzialmente che sono l'icon edit e l'icon delete che abbiamo definito qui sopra come costanti sono degli svg e quindi il disegnino della matita e del cestino quindi niente di particolare un td un ulteriore td che viene che contiene i due disegnini ok andiamo adesso a vedere come funziona il meccanismo delle proprietà che ci consentono di avere l'esame qui disponibile nell'exam row dicevamo che nell'exam row riceviamo delle properties questo è un componente scritto sotto forma di funzione quindi riceve un parametro che sono le props e queste props devono avere una proprietà exam e questa proprietà exam è quella che viene settata qui dall'exam table che è componente padre l'exam table prenderà quindi una serie di esami adesso poi vedremo perché è da qui però avrà la lista degli esami questo plurale exams quindi è un array sul quale come siamo abituati a fare facciamo un app per andare a scorrere l'array e ritornare un nuovo array e ritorniamo un nuovo array fatto di exam row quindi di componenti exam row quindi sarà un array di componenti exam row non c'è nulla di animale a ritornare diciamo così l'html perché sappiamo questa è la sintesi jxx jxx in realtà qui è come se stessimo ritornando il react create element eccetera e quindi dobbiamo dare al componente di sotto che è la exam row dico di sotto nel senso di componente figlio nel diagramma delle dipendenze una proprietà exam e questa proprietà exam dovrà contenere l'informazione relativa all'esame quindi che è la e che è un elemento dell'array exams che diciamo ne facciamo lo spread per sostanzialmente distribuire le sue proprietà come proprietà che ci consentono di essere accedute singolarmente come abbiamo poi fatto qui name score date in realtà abbiamo un piccolo problema nel senso che nel exam abbiamo se andiamo a vedere com'era fatta l'array degli exam che abbiamo poi passato dall'app fino in giù il codice del corso ma noi vorremmo nella visualizzazione andare a mostrare il nome del corso ricordate la visualizzazione la visualizzazione ha il nome del corso non ha il codice del corso il codice del corso qui non si vede ed è interno e quindi come facciamo sostanzialmente allora prima di tutto ci serve avere a disposizione all'interno di del table quindi dell'exam table le proprietà e le proprietà devono contenere sia l'informazione relativa agli esami sia l'informazione relativa ai corsi e noi vorremmo estrarre dall'informazione relativa ai corsi l'informazione relativa a name quindi questo exam alla fine avrà quattro proprietà le tre dell'exam che includono il codice del corso ma non con il nome del corso e poi il nome che inseriamo noi a parte in aggiunta a queste tre che abbiamo aperto diciamo così nell'oggetto con l'operatore di spread che ricaviamo in questa maniera da this props course names e course name perché perché abbiamo passato una proprietà course names a questo componente exam table nel momento in cui questo componente exam table ha ricevuto tutta l'informazione relativa agli esami chi è che va a prendere l'exam table andiamo a vedere nella nostra struttura exam table è creato da exam course quindi in exam course in exam course che sarà da qualche parte qui ecco in exams course noi passiamo due proprietà una exams e l'altra è course names e course names già li siamo calcolati course names sostanzialmente non sono nientato che un un oggetto nel quale andiamo a inserire delle proprietà ognuna delle quali sono ha come nome il codice del corso come valore il valore del del nome del corso stesso cosicché con un semplice look up nel senso che con questa sintassi delle parentesi qua da aperta e chiusa inserendo il codice del corso possiamo farci ritornare il nome questo è diciamo semplicemente ci scorriamo tutto l'array dei corsi che ovviamente dobbiamo farci passare come properties in exam course e questo questo array sostanzialmente lo trasformiamo in un oggetto in cui abbiamo una serie di properties che corrispondono ai codici dei corsi con valore il loro nome cioè abbiamo l'equivalente di quello che in altri linguaggi è sostanzialmente un array associativo cioè ci consente di fare facilmente il look up dal codice del corso e ottenere il nome e questo course names lo passiamo poi come proprietà al componente di sotto che era quell'exam table di conseguenza in exam table quindi siamo di nuovo in exam table abbiamo che il course name lo possiamo ottenere semplicemente dal codice del corso e punto course code che è la proprietà che abbiamo a disposizione nel momento in cui abbiamo questo exam che ha quattro proprietà questo exam è una proprietà che andrà a finire su exam row e di cui noi estraiamo o meglio passiamo poi a exam row data che è quella che poi effettivamente la visualizza separatamente nei vari td passiamo questo exam che è un oggetto con quattro proprietà di cui noi visualizziamo tre avremmo anche il codice il course code però non lo utilizziamo perché non ci serve notate bene che exam row data non sa assolutamente niente di tutto quello che è successo a monte del componente stesso perché lui semplicemente riceve come properties un oggetto exam che ha un quattro proprietà e decide di visualizzarne tre in realtà non sa neanche che c'è la quarta proprietà perché noi non la utilizziamo e quindi ci fosse o non ci fosse per questo componente esattamente la stessa cosa ok nel momento in cui andiamo a creare i vari exam row in questo punto della tabella quindi nella exam table ricordate che siccome ne creiamo tanti e quindi facciamo sostanzialmente ritorniamo un array di componenti che vanno racchiusi tra parentesi graffe ricordate perché se li mettiamo qui diciamo come elementi già presenti come abbiamo fatto qui sopra non c'è bisogno di mettere nessuna chiave ma nel momento in cui li facciamo diciamo lavorare a react tramite tramite il codice e quindi ritorniamo all'interno del presentesi graffe abbiamo necessità di inserire una chiave perché altrimenti poi il react si lamenta non avendo la chiave non riesce a far girare in maniera efficiente quell'algoritmo che serve a mappare diciamo a fare la differenza tra il virtual non corrente e il virtual dom nuovo e quindi capire quali sono le differenze da andare a modificare come chiave ovviamente qui possiamo usare la chiave naturale di questi elementi sono esami e hanno una chiave univoca che è il codice del corso quindi ci viene anche comodo perché è vero che non ci viene comodo più avanti negli esami perché in realtà vogliamo visualizzare il nome ma in realtà qui ci viene comodo perché appunto ci serve come chiave notate che questa key non è accessibile diciamo nelle properties per cui se avessimo dovuto avere il corso avremmo dovuto passarla beh in realtà la passiamo già anche qui perché con lo spread di E in realtà stiamo facendo lo spread anche di course code e quindi volendo sarebbe accessibile il course code però come properties dell'oggetto exam quindi come proprietà di exam che a sua volta è la proprietà che abbiamo una delle proprietà che abbiamo passato al componente però non possiamo accederci tramite key come abbiamo anche sottolineato a lezione cercando di riassumere un po' il flusso delle proprietà all'interno della gerarchia dei nostri componenti allora prima di tutto in exam row data otteniamo questo oggetto exam che ha quelle 4 proprietà con il nome il codice del corso il valore del voto e la data che ovviamente è passato dalla exam table dove sostanzialmente avevamo fatto quella map sull'array che ci consente di calcolare il contenuto di questo exam quindi questo exam sostanzialmente ci viene dall'exam score poi andremo a capire diciamo perché ha senso metterlo in questa maniera e che a sua volta ci viene fuori da app che ha quei valori di exam e di courses che sono quegli array uno il valore iniziale perché in realtà exam potrà poi cambiare nel momento in cui aggiungo un nuovo esame faccio l'editing eccetera invece la lista di corsi è fissata perché non la possiamo editare e la otterremo solo in futuro dal server per ora l'abbiamo inserita fissa quindi queste sono properties che ci vengono passate e che diciamo e come vedete mano a mano che scendiamo nei componenti scendono solo le informazioni le properties che sono strettamente necessarie al componente stesso questa è una una questione chiave da imparare in in React ma in generale diciamo quando quando cerchiamo di programmare qualcosa di riutilizzabile ovviamente dobbiamo cercare di fare in modo che il componente o comunque la classe quello che usiamo sia diciamo a conoscenza solamente di ciò di cui ha bisogno e ignori tutto il resto perché così sarà il più riutilizzabile possibile nel momento in cui avessimo bisogno di visualizzare i dati di un esame da un'altra parte potremmo aprire il componente e semplicemente riutilizzarlo da un'altra parte in un'altra tabella se invece ci fosse tutto il meccanismo diciamo che si porta dietro tutta una questione di gestione dei dati per esempio una lista di esami eccetera a livello della singola riga abbiamo bisogno del singolo esame non abbiamo bisogno degli exams quindi non del plurale perché quello è l'array e l'array lo dovrà ricevere la tabella per poi creare i singoli componenti con i singoli esami però i singoli componenti hanno il singolo esame e così via quindi questo mi raccomando è un principio fondamentale da tenere in considerazione nel momento in cui dobbiamo decidere come far passare l'informazione da un da un componente all'altro ovviamente l'informazione qui passa tramite le properties properties che possono essere anche complicate come valore quindi non essere valori semplici come numeri piuttosto che string possono anche essere ovviamente array, oggetti e così via come naturale e però dobbiamo sapere che cosa il componente si aspetta anzi decidere noi che cosa il componente si aspetta e quindi fare in modo che il componente di livello superiore per esempio in questo caso exam table fornisca le properties nel modo in cui se le aspetta il componente di livello inferiore per esempio la row che poi in questo caso passa direttamente il dato a row data vediamo dunque exam table e cerchiamo prima di tutto di capire come mai abbiamo voluto inserire questi esami e questi esami che ci vengono passati nelle properties perché come vedete sono props e exams qui nel costruttore questo è un componente scritto con la class che quindi è un costruttore un metodo render quindi il costruttore riceve le props e queste props contengono la lista degli esami che è quella lista iniziale che viene che ci viene passato da app e poi a vale di app dal dunque come si chiama il componente no forse direttamente exam table no si chiama exam scores e poi che chiama exam table quindi l'exam scores ecco l'exam scores è quello che ci calcola con la tabella di look up sotto forma di oggetto e poi ci chiama l'exam table passando sui props exam che lui ha ricevuto da diciamo dal livello superiore dall'app che è fissa che però come dicevamo sarà potenzialmente modificata perché nel momento in cui agiamo sui controlli della nostra applicazione andremo a modificare questa questa informazione quindi aggiungiamo un nuovo esame editiamo il valore del voto di un esame e così via quindi questo questo è essendo un qualcosa che varia e quindi non rimane fisso e deve essere gestito dall'applicazione ha senso che sia immagazzinato sotto forma non di proprietà ma di stato dobbiamo però pensare a dove ha senso andarlo a inserire come stato ovviamente non ha senso mantenere l'informazione diciamo sulle singole righe perché se togliamo una riga dobbiamo aggiungere una riga dobbiamo generare le righe eccetera ci va un punto in cui possiamo mantenere tutta l'informazione relativa all'array degli esami e questo punto come abbiamo detto dobbiamo andare nella lezione dobbiamo andare a ricercare nell'elemento nel componente padre comune a tutti i componenti figli che devono usare l'informazione avremmo potuto inserirlo in app ma chiaramente questo avrebbe fatto sì che questo componente app sostanzialmente lo potesse rendere disponibile poi anche optional exonform eccetera quindi in realtà lo portiamo all'insù nel nostro albero di gerarchia ma non arrivando cioè arrivando fino al punto dove è indispensabile che questo sia presente per poterci facilitare la gestione diciamo dei sottocomponenti per esempio la lista degli esami è necessaria per la gestione della tabella e e poi diciamo dipende da come vediamo gestire poi i table controls quindi se li vogliamo diciamo sì i table controls potrebbero andare a gire sugli esami cancellando un esame editando un esame quindi ha senso non averli a livello della tabella ma averli a livello del componente padre quindi qui effettivamente manteniamo un'informazione degli esami sotto forma di stato e lo facciamo anche se in questo esempio che vi diamo non andiamo a fare modifiche a questi esami perché avremo un'applicazione in cui ci sono tutti i bottoni eccetera ma nessuno di questi funziona questo lo faremo poi successivamente però intanto abituiamoci appunto a almeno definire quello che riteniamo debba essere definito come qualcosa che cambia sotto forma di stato quindi riceviamo un'informazione exams come una delle properties che riceve il componente exam table e andiamo a immagazzinarla in state notate bene che non facciamo exams due punti prop exams perché questo anche se è un array prop exams è un array perché questo vorrebbe dire che passiamo un riferimento dentro all'oggetto dello stato del componente a un qualcosa che potrebbe essere modificato al di fuori da qualcun altro e questo non va bene perché come sappiamo non deve esserci la possibilità per nessuno di andare a modificare lo stato di un componente se non da parte del componente stesso con quel metodo setState che questo esempio non ho usato però sarà poi usato nel momento in cui andiamo a inserire un comportamento dinamico all'interno della nostra applicazione quindi questa sintassi cosa fa sostanzialmente fa una copia della lista iniziale degli esami dal qui è scritto dalle properties esattamente quindi dal da quello che viene ricevuto sotto forma di array iniziale di questa lista degli esami quindi la semplice sintassi dello spread che abbiamo usato se no potevamo fare un array from eccetera quindi copiarlo in qualche maniera però questo è forse più immediato come sintassi un po' più compatta e crea un array inserendoci dentro sostanzialmente i vari elementi dell'array exams uno per uno ma ha l'effetto collaterale di copiare duplicare i vari elementi all'interno dell'array ok quindi attenzione a questi aspetti nel momento in cui ce l'abbiamo a disposizione poi questo siccome siamo nel componente che gestisce lo stato lo possiamo usare come abbiamo fatto qui esattamente come se fosse una proprietà nel senso che la differenza tra stato e proprietà è che lo stato è poi modificabile con l'apposita chiamata set state mentre le properties non lo sono quindi non c'è modo di modificare le properties però nel momento in cui ce l'abbiamo possiamo semplicemente utilizzarle quindi andare a prendere la proprietà exams che è quella che abbiamo inserito nell'oggetto di stato che corrisponda all'array e farci i lavori che vogliamo quindi per esempio chiamare map e fare tutto il lavoro di scorrimento dell'array creando tutto ciò che è necessario per andare a inserire le varie righe della tabella andiamo ora a ragionare sugli altri componenti quindi andiamo a vedere i table controls quindi nel momento in cui ecco abbiamo i table controls sostanzialmente questo div right button quel bottone rotondo che ci consente di inserire l'iconina del più che è di nuovo definita in svg cioè una semplice costante di gsx ecco in svg eccetera eccetera che inseriamo qui e lo facciamo sulla base di una proprietà modo view che abbiamo inserito semplicemente per decidere se visualizzare il componente oppure no perché vedete se c'è if props mode uguale view ok allora visualizziamo ritorniamo il componente che quindi verrà visualizzato altrimenti return null quindi molto semplice non ci sarà la visualizzazione questo perché nel momento in cui renderemo dinamico il comportamento dell'applicazione ovviamente vorremmo nascondere il bottone il più e far comparire il form quindi tornando ancora una volta i nostri componenti andiamo adesso ad esplorare il ramo del form quindi l'optional exam form quindi avremo l'optional exam form che di nuovo ha un props mode view che quindi ci consentirà di nasconderlo e visualizzarlo e ci sarà l'elemento padre a questo punto che nella nostra gerarchia è direttamente app che nel momento in cui nasconderà il table controls farà in modo di visualizzare optional exam form perché questo è semplicemente il più e viceversa nel momento in cui avremo gestito il dato proveniente dal form poi questa è una prima implementazione poi vedremo se con lo sviluppo successivo dell'applicazione ci converrà creare un ulteriore componente a questo livello per gestire questa interazione quindi il modo oppure diciamo ridefinire un po' qual è il valore di questo modo oppure come comunque andare a gestire questa proprietà che ci dice sostanzialmente cosa visualizzare all'interno di table control piuttosto che il form e ovviamente se viene visualizzato l'uno non viene visualizzato l'altro e viceversa però di nuovo abbiamo i table control a parte perché magari hanno anche un secondo un terzo bottone e così via come dicevamo per esempio la stampa eccetera e quindi rimane tutto da capire nel momento in cui vogliamo spendere l'applicazione cosa ha più senso fare finiamo di esplorare il ramo dell'optional exam form l'optional exam form sostanzialmente ci ritorna div con il jumbotron c'è quella striscia spessa diciamo all'interno della quale abbiamo fatto contenere il form e avremo il form che ha il form data e il form control e nel form passeremo exam courses il form data diciamo un po' lungo come codice ma semplicemente è quello che ci crea il form e quindi ci fa il div che contiene sostanzialmente il select e che quindi è la lista dei corsi ovviamente dovremmo fare attenzione a fare tutto il meccanismo di generazione delle varie options che sono sostanzialmente i codici dei corsi ma in realtà non vogliamo visualizzare i codici dei corsi ma vogliamo visualizzare il nome del corso quindi ci sarà all'interno del valore di option il nome del corso e come value che è quello che ci viene sostanzialmente gestito dal form per capire quale elemento abbiamo selezionato ovviamente usiamo il codice del corso così come come chi perché essendo che qui sono le abbiamo inseriti nella parentesi graffa come è logico fare d'altronde perché stiamo scrivendo del jsx se vogliamo fare una lista di elementi html hanno bisogno anche in questo caso della key se ce l'ascordassimo vedremo vedremo all'interno della console del browser un warning Rack ci lascia andare avanti lo stesso però in modo development ovviamente ci da un warning per dire guarda che se metti la key è meglio perché e così l'algoritmo di rendering funziona in maniera molto più efficiente e veloce anzi di reconciliation come abbiamo detto poi il rendering è solamente dare i dati al browser e se ne occupa il browser però reconciliation che controlla le differenze tra il virtual dome corrente e il nuovo se ha la key funziona in maniera estremamente più efficiente ok ecco tra l'altro abbiamo anche il valore di default notate come funziona il valore di default il valore di default è l'eventuale valore che passiamo come props exam oppure un elemento vuoto un oggetto vuoto quindi ricordate questa sintassi se il proprio esame è valorizzato prende il valore di exam altrimenti sarà l'oggetto vuoto e quindi sostanzialmente non ci sarà alcun score quindi questo valore sarà sostanzialmente undefined e il default value quindi non verrà impostato nell'html perché questo è il comportamento di react questo ci consente di semplificare un po' il codice se non metterci lì a scrivere un punto interro is che so il valore uguale uguale cioè diverso da undefined o diverso da null eccetera punto interrogative funziona tutto in maniera automatica nel senso che nel momento in cui diamo un valore che è null o undefined sostanzialmente questo attributo non viene inserito all'interno del del codice html nel momento in cui invece per esempio per il select eccetera avevamo visto l'esempio è valorizzato a true questo viene inserito o se è valorizzato a qualche cosa che è un true value ok e questo l'abbiamo fatto per tutti e tre gli elementi tutti e tre i controlli del form che è il nome del corso il voto è la data quindi hanno un valore default che in questo momento non è utilizzato perché se non passiamo un exam al form non viene popolato e in questo momento non essendoci un comportamento dinamico quindi non funzionando le matitine diciamo così nella parte della tabella dell'exam ovviamente non funziona però poi più avanti vedremo ovviamente di farlo funzionare infine abbiamo i form controls che non sono orientato che due bottoni racchiusi in un div due bottoni bottoni vabbè di tipo non ci interessa tanto poi lo gestiremo via javascript che ci fanno il save piuttosto che il cancel al quale al momento non è attaccato alcun listener non facciamo niente in questo senso perché diciamo abbiamo già fatto abbastanza nel creare tutti i componenti che realizzano la nostra applicazione ovviamente questi questi componenti di più alto livello che non sono definiti che vanno utilizzati di fuori questo file vanno esportati dal modulo quindi exam scores e optional form perché poi in in app ovviamente li dobbiamo utilizzare quindi ovviamente andranno importati da exam component ok bene andiamo ora a vedere se tutto funziona e quindi andiamo a verificare se funziona visualizzando il contenuto all'interno del browser dunque per farciò tramite terminale di react dopo aver fatto ovviamente npm avete clonato il repository o avete scaricato il repository che contiene il codice ovviamente avete fatto npm install che io ho già fatto adesso quindi lo sta rifacendo giusto per perché gli ho detto di rifarlo ma in realtà l'avevo già fatta la prima cosa che dovete fare nel momento in cui scaricate questo codice perché dovete far installare tutti i moduli le dipendenze e così via e poi potete lanciarlo con npm init ops scusate come volevo dire npm start e ovviamente partirà e vi aprirà il browser a me sta aprendo chrome sull'altro sull'altro schermo in realtà volevo farvelo vedere con con firefox dunque localhost 3000 e vediamo la nostra applicazione ecco l'aspetto che ha e possiamo andarcela a esplorare come sappiamo avendo installato il plugin react developer tools facciamo inspect e abbiamo il nostro components e ci sarà tutta la gerarchia che abbiamo stabilito nel codice e quindi tutti i valori che abbiamo stabilito nel codice quindi ovviamente vediamo i i vari le varie properties vediamo prendiamone uno qualsiasi per esempio exam row data a exams che contiene course code date e contiene score e name e questo course code è stato calcolato dall'exam table tramite quel meccanismo avendo i course names e gli exams che non avevano i name e poi ha lo stato perché abbiamo deciso di tenerlo qui dentro e quindi sostanzialmente ha gli exams che non confondete i props sono quelli che ci sono arrivati dal livello superiore quindi è l'array fisso ma poi nel momento in cui andremo a modificare andremo a modificare nello state perché le props ovviamente non potranno essere modificate in realtà questi exams nell'applicazione vera ci arriveranno poi dal lato server quindi tramite l'api rest andiamo a caricarli quindi avremo un pezzettino di codice javascript che va a caricare questa informazione ce la rende disponibile e crea la carica e la imposta come stato del componente però questo lo vedremo possiamo ovviamente esplorare tutto quello che vogliamo diciamo all'interno dei vari componenti quindi al di sotto abbiamo gli optional exam form che contiene exam form data e exam form control ecco tra l'altro nel momento in cui noi da app no da scusate option exam form no prima vediamo che sostanzialmente non avendo collegato nessuna azione ai vari iconi eccetera noi cliccando come sto facendo adesso ovviamente non facciamo succedere nulla perché è popolato questo è semplicemente popolato perché nel codice da qualche parte abbiamo passato all'elemento che era optional exam form andiamo a vederlo optional exam form optional exam form exam form data abbiamo passato un exam abbiamo passato un exam che ci viene dalle properties che quindi chi creò optional exam form era app 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 ecco ci è passato il fake exam 2 e quindi ci ha popolato diciamo il form giusto per fare una prova nel momento in cui cambiassimo per esempio facciamo save poi lo farò ok come vedete si ricarica tutto quanto da solo come ci aspettiamo se andiamo a vedere e vedete che è già cambiato perché tra l'altro ecco il meccanismo di react con create react apps eccetera ci fa sì di attivare un serve perché sia che salviamo della nuova informazione l'atto serve sia salviamo della nuova informazione l'atto serve quindi dei nuovi file eccetera e scatena anche il ricaricamento dell'informazione sul browser questo ovviamente in modalità sviluppo e quindi per esempio abbiamo cambiato l'esame che a questo punto sarà non più il terzo nell'array ma il secondo non nella combo box che un'altra cosa però notate anche che potete per esempio anche nel qui nel nei nei development tool potete anche andare editarle proprietà quindi se voi fate questa cosa per esempio che possiamo sia fare da codice ma anche fare da qui che è un briciolino più comodo sostanzialmente potete decidere di far sparire a seconda di come funziona il vostro codice quindi dell'if che avete scritto nel codice potete andare a modificare direttamente la proprietà e vedendo immediatamente l'effetto quindi c'era add e allora adesso comparirà il nostro form e nel momento in cui dunque andiamo a prenderci questo questo in realtà a noi l'html il dom ci interessa fino a un certo punto noi vorremmo in realtà avere il ecco table controls table controls che in modalità view se fosse in modalità che so add come vedete è sparito piuttosto che appunto rimettiamo view e così via questo ovviamente lo possiamo fare anche da codice quindi qui abbiamo passato mod view se passavamo mod che so add salviamo ovviamente torniamo nel browser e questo rimane sparito e vediamo aggiornato l'add e analogamente torniamo indietro view salvato e torniamo sul browser e ci riappare ovviamente non c'è nessun comportamento dinamico particolare però diciamo abbiamo già predisposto con queste properties il modo in cui possiamo andare a gestire il comportamento della nostra applicazione quindi nel momento in cui cambiamo cambieremo o meglio passeremo una properties differente ai componenti questi cambiano il loro aspetto quindi per esempio vengono visualizzati o non visualizzati questo è già un punto importante da andare a realizzare che ovviamente diciamo lavorare sulle properties è quello che vi verrà richiesto nel laboratorio prossimo quindi del prossimo venerdì quindi cercare di dare una struttura termini componenti di properties all'esercizio che dovete sviluppare in laboratorio diciamo con un livello di dettaglio ragionevole tanto per prendere confidenza con la struttura componente di React e cercare di capire come gestire le properties e dove andarle a quali properties passare come passarle e così via poi chiaramente nel seguito riprenderemo questo esempio e cercheremo di portarla ad un livello diciamo più sofisticato in cui ovviamente ci sono delle parti dinamiche che cominciano a funzionare poi con l'interazione col server e così via quindi l'importante è in questa lezione riuscire a capire appunto come organizzare l'applicazione in termini componenti componenti che restino il più possibile uguali nel momento in cui andremo a modificare la nostra applicazione per esempio inserire quei comportamenti di cui dicevamo quindi nel momento in cui le informazioni ci arriveranno dal server eccetera ok andremo a aggiornare che so le informazioni relative all'esame oppure nel momento in cui andiamo a aggiornare le informazioni relative all'esame nello stato dovremo andare a inviare il server eccetera però diciamo di questo ce ne occuperemo più avanti adesso è importante appunto avere questi componenti che ricevano l'informazione corretta che non debbano essere più modificati diciamo semplicemente per la questione di visualizzare l'informazione che sostanzialmente deve derivare per i componenti di presentazione praticamente dalle properties ok direi che per questa lezione è tutto e quindi avete un esempio abbastanza esteso di come andare a strutturare i componenti di react e andare a gestire le properties e nelle prossime lezioni ovviamente approfondiremo altri aspetti di react che ci consentiranno di andare a migliorare anche il comportamento di questo esempio grazie per l'attenzione grazie per l'attenzione